I sindacati confederali protestano contro l'innalzamento delle aliquote per le imposte e decise da Palazzo Marino. Non c'è equità verso i cittadini e manca il criterio di progressività, dicono CGL, Cisle, Willa e Sindaco. E bufera sul capogruppo della Lega Nord Alessandro Morelli per un posto pubblicato su Facebook in cui di fianco alla foto di Michi Vendola può fare la scritta gay e pedofilo. Morelli poi si è scusato, ma Sel ne ha chieste le dimissioni. Coreo-orchestrali della Scala protestano dopo la tutta in Giappone. Una kermesse deludente, dicono, perché troppo legata a scelte di marketing da discapito della qualità artistica. Questa sera torna la Champions League. Dopo le prestazioni opache di Milan e Napoli di ieri sera, la Juve a Corino riceve il Galatasaray con il nuovo allenatore Roberto Mancini. Buonasera e buonasera anche dal TGN. Bene, benvenuti a questa edizione. Abbiamo parlato più volte in questo telegiornale dei tagli che dovrà attuare il Comune di Milano e come le aliquote, ad esempio, del LIMU e dell'IRPEF dovranno essere innalzate. Bene, c'è una risposta da parte dei tre sindacati confederali che ritengono che questa manovra non sia assolutamente equa, manca il criterio di progressività e in questo modo hanno risposto al sindaco proponendo anche delle soluzioni. C'è una lettera con nove proposte che appunto CGL e Cislewil hanno presentato al sindaco Pisapia. Sentiamo Alberto Carreras. I tagli al bilancio del Comune di Milano colpiscono le fasce più deboli della popolazione e dunque sono inaccettabili. Il rischio è quello di mancanza di equità sociale. L'accusa nei confronti dell'amministrazione comunale milanese arriva dai sindacati CGL e Cislewil, estremamente preoccupati che la riduzione dei trasferimenti statali possa determinare un'eccessiva pressione delle imposte e delle tariffe comunali che gravano sulle famiglie. L'incremento del costo degli abbonamenti ATM, poi l'aliquota IMU che potrebbe raggiungere quota 0,6% e la possibile eliminazione degli scaglioni dell'addizionale IRPEF fissando lo 0,8% per tutti i contribuenti. A questo punto sarebbe solo una parziale compensazione. Secondo i sindacati il possibile innalzamento della soglia di esenzione rispetto ai 15.000 euro all'anno decisi ultimamente. Ricordiamo che il vecchio limite, considerato più equo dalle forze sindacali, era fissato a 33.500 euro sempre all'anno. Ci sono stati tagli ai comuni, questo sta producendo inevitabilmente delle manovre che colpiscono ancora lavoratori e pensionati e creano iniquità. Milano però non è una città come tutte le altre. Vivere a Milano costa caro, i servizi a Milano sono cari, gli affitti delle case anche e quindi c'è bisogno di fare una politica diversa. L'invito che noi facciamo alle organizzazioni sindacali non è quello solo di dire di no, ma anche di proporci delle strade alternative. Per quello che riguarda la partecipazione maggiore dei cittadini alla spesa, io credo che questo debba avvenire, ma con molta cautela, nel senso che non possiamo produrre un effetto paradossale di far pagare i servizi a chi oggi non li paga. CGL e Cisle Will hanno inviato una lettera a sindaco e assessori nella quale individuano nove provvedimenti di particolare utilità, dal potenziamento della lotta all'evasione alla revisione dell'indice ISEE, così come oggi, sino all'ottimizzazione delle entrate e alla valutazione sul ruolo di tutte le società partecipate. Poi abbiamo chiesto al Comune di fare un incontro dove ci facciano vedere nel 2012 quali erano le spese e nel 2013, nel bilancio preventivo, quali sono gli effettivi tagli che si fanno a queste spese, assessorato per assessorato. E in più dobbiamo colpire i furbi. Chi evade? Parliamo di altri tagli, tagli che avverranno in Regione Lombardia, almeno per quanto riguarda la Lega, perché si parla di un taglio previsto tra il 20% e il 30% dello stipendio di 501 dirigenti della Regione Lombardia e di enti e società interamente partecipati. Questa è la stima dei gruppi al Consiglio regionale Lombardo della lista Maroni e della Lega Nord che oggi hanno presentato insieme, come vedete dalle immagini, un progetto di legge per ridurre i costi della struttura amministrativa. Stefano Bruno Galli e Massimiliano Romeo hanno spiegato che l'intenzione non è punire i dirigenti, ma dare un segnale anche a livello nazionale. Abbiamo fatto i sacrifici noi politici, hanno detto due capigruppo, è giusto che anche loro contribuiscano, ha sottolineato Galli, che attualmente percepirebbero tra i 70 e i 280 mila euro annui lordi. Il taglio riguarderebbe la retribuzione di risultato, l'unica sulla quale la Regione può intervenire. Il risparmio stimato dai proponenti del progetto di legge sarebbe di circa 8 milioni all'anno per tre anni. Tanto dovrebbe infatti durare la soppressione della retribuzione di risultato. Cinque patteggiamenti con pene da un anno e sei mesi a due anni e dieci mesi nell'ambito delle inchieste sul presunto giro di tangenti nella sanità lombarda. E anche la Fondazione San Raffaele starebbe trattando per il patteggiamento, strategia già adottata dalla Fondazione Maugeri, sempre coinvolto ovviamente in inchieste sulla sanità. Sentiamo Stefano Fumagalli. Il carcere per loro è scattato a marzo. Oggi sono arrivate le conferme dei patteggiamenti per gli indagati dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti della sanità lombarda. I PM Claudio Gittardi e Antonio D'Alessio e le difese hanno ratificato patteggiamenti per due anni e dieci mesi all'imprenditore Giuseppe Lopresti, due anni al figlio Salvo Massimiliano, un anno e sei mesi al fratello Gianluca, due anni all'ex direttore del quotidiano La Padagna Leonardo Boriani, due anni e quattro mesi a Pierluigi Sbardolini, ex manager dell'ospedale San Paolo di Milano. La stessa inchiesta aveva portato in carcere l'ex consigliere regionale Massimo Gianluca Guarischi. Nelle ratifiche è stata stabilita anche la confisca di una villa in Sardegna intestata a Giuseppe Lopresti e alla moglie e di ulteriori 90 mila euro a carico di Sbardolini che ha anche versato un risarcimento al San Paolo. Ma l'onda lunga delle inchieste sulla sanità regionale non si ferma e investe con forza anche il San Raffaele. La fondazione dell'ospedale indagata per la presunta corruzione dell'ex governatore Roberto Formigoni per i fondi pubblici ricevuti starebbe trattando con la procura di Milano per patteggiare una pena che si attesterebbe attorno ai 12 milioni di euro più una sanzione amministrativa, destino simile alla fondazione Maugeri che per non affrontare il procedimento penale ha pagato 16 milioni in immobili e un milione di sanzione. La cifra, che sarà decisa come risarcimento, non influirà sull'azione di risanamento del nosocomio. A proposito di processi di Regione Lombardia, bene, la Regione Lombardia insieme al Comune di Milano e l'Aler sono stati ammessi come parte civile nell'udienza preliminare a carico dell'ex assessore regionale alla Casa Domenico Zambetti che è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e voto di scambio nell'ambito del procedimento sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in Lombardia. Oggi è iniziata l'udienza preliminare davanti al gruppo Andrea Ghinetti. L'udienza è a carico di 15 persone, alcuni imputati sono davanti al gruppo invece per l'udienza con rito abbreviato. L'udienza proseguirà anche domani con un'altra seduta e poi si andrà a metà ottobre. Voltiamo pagina, vogliamo difendere la nostra Costituzione e lottare affinché venga applicata totalmente e soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Così la leader della FIOM, Maurizio Landini, da Palazzo Marino ha lanciato la sua manifestazione nazionale prevista a Roma per il prossimo 12 di ottobre. Vediamo. La democrazia è a rischio e più che mai va applicata la Costituzione. Lo ha detto Maurizio Landini, leader della FIOM CGL, ieri sera in Sala Alessia, Palazzo Marino, in occasione della presentazione di un'assemblea pubblica sulla manifestazione nazionale prevista a Roma sabato 12 ottobre. La Costituzione non va cambiata, ma va applicata. Questo sarà lo slogan che accompagnerà l'evento romano indetto sulla base dell'appello lanciato da illustri costituzionalisti, come Stefano Rodotta e Gustavo Zagrebelschi, unitamente a Maurizio Landini, Don Luigi Ciotti e Lorenza Carlassare. Maurizio Landini, numero uno della FIOM, ha detto che bisogna battersi affinché la nostra torni ad essere una Repubblica fondata sul lavoro e quella del 12 ottobre deve essere una grande mobilitazione di tutti coloro che non si rassegnano. Il problema che noi poniamo è che la politica deve rappresentare il lavoro e deve rappresentare gli interessi delle persone che lavorano e le manifestazioni che stiamo facendo vanno in questa direzione e non si debbono, dovrebbero i partiti preoccuparsi del fatto che la maggioranza di quelli che lavorano o non vanno a votare o non votano come loro vorrebbero. Allora questo è il tema su cui dovrebbero riflettere e soprattutto in questa fase il problema è recuperare la partecipazione. In un paese dove il 50% delle persone non va a votare, tutti si dovrebbero preoccupare del fatto che è a rischio la democrazia di questo paese e in questo senso, insisto, il tema oggi è creare lavoro, difendere il lavoro che c'è, superare la precarietà che oggi mi sembra la condizione di fondo e anche in questo senso io credo il problema è quello di applicare la Costituzione e soprattutto c'è bisogno di fare degli investimenti. Scivolone del capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale Alessandro Morelli, tutto questo per un post pubblicato sul suo profilo Facebook o meglio essere incriminata è l'immagine che ritrae il leader di Cell, Nichi Vendola, con il suo compagno e la scritta gay e pedofilo. Foto e post pubblicati ieri sera sono stati cancellati dallo stesso Morelli che poi ha chiesto scusa per l'accaduto. Nell'immagine è inoltre riportata la frase attribuita a Vendola «Sono pronto a fare la mamma sopra un secco no alle adozioni gay». Subito la reazione di Cell con l'assessore al lavoro Cristina Tajani che abbiamo visto. Il partito di Cell chiede le dimissioni di Alessandro Morelli e la stessa cosa anche il coordinatore cittadino del Partito Democratico La Forgia che dice appunto «Morelli a questo punto si deve dimettere». Cambiamo argomento, coro e orchestrali della Scala di Milano hanno scritto una durissima lettera al sindaco e alle dirigenze della Fondazione Scala di ritorno da una tournée in Giappone. Gli artisti infatti lamentano scelte eccessivamente legate al marketing e a discapito della qualità. Una protesta non troppo velata che coro e orchestrali della Scala di Milano mettono in scena, è il caso di dirlo, al ritorno della tournée giapponese definita deludente. Con una lettera al sindaco Giuliano Pisapie e al presidente della Fondazione Scala i maestri hanno voluto sottolineare un loro profondo rammarico. L'ultima trasvolata nipponica ha registrato il tutto esaurito ad ogni esibizione e raccolto applausi convinti tanto da registrare un vero record con 20 appuntamenti sold out. Ma secondo gli orchestrali non basta tanto da definire le proposte musicali come un'operazione di esportazione culturale ma anche un'offerta di luoghi comuni internazionali, un progetto commerciale che è stato anteposto alla scelta qualitativa. L'accusa insomma di aver messo in piedi un patriottico repertorio pop ottimo per l'estero e per il botteghino ma offensivo nei confronti della maestria e delle professionalità in gioco. In ballo la particolarità della tradizione musicale italiana troppo commercializzata secondo gli iscriventi che se la prendono anche con la scelta di alcuni cantanti lamentele cui seguono delle proposte dal rigore nella preparazione dei cantanti a prove meno improvvisate con cast dimezzati e acustiche migliorate. Un equilibrio che deve essere trovato al più presto dopo parole tanto dure tra l'ovvia necessità di puntare alle vendite così come alla giusta difesa della qualità artistica senza la quale anche il marketing avrebbe vita breve. Problemi ancora di lavoro perché sono 1870 i dipendenti del gruppo VS International attivo nel settore delle pulizie e della ristorazione che rischiano il posto in tutta Italia tutto questo dopo l'arresto avvenuto il 20 settembre del titolare un imprenditore monzese accusato di frode fiscale per 50 milioni di euro lo annuncia la Camera del Lavoro di Milano che sottolinea come nella sola Lombardia i posti a rischio siano ben 800. E questa mattina a Milano l'Opera Cardinal Ferrari di Via Boeri ha mostrato il suo nuovo volto dopo i lavori di ristrutturazione finanziati da fondazioni private che hanno riqualificato l'intera struttura. L'Opera Cardinal Ferrari di Via Boeri a Milano ha presentato il suo nuovo volto dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno modificato i locali rendendoli più moderni, sicuri e al passo con i tempi. Questa realtà esiste dal 1921, prima nella sede di Via Mercali e poi in questa struttura dal 1949. Sono state rifatte la mensa, la cucina, le dispense, l'area servizi e il centro diurno. Il costo dei lavori ammonta circa 3 milioni di euro finanziati dai privati, Fondazione Cariplo, Fondazione De Agostini ed è nel cuore. Era il sogno di una vita, è cominciato tanto tempo fa, la casa non dico crollava ma la casa aveva bisogno di tante restaurazioni, non avevamo le uscite di sicurezza a posto. Quando abbiamo messo mano, come sempre capita, abbiamo scoperto che non una piccola cosa, bisognava rifare tutto. Allora con le possibilità del momento siamo partiti, in tre step abbiamo rifatto tutto. L'Opera Cardinal Ferrari dà assistenza ogni giorno dalle ore 8 alle 17 a circa 200 persone che vivono nell'indigenza e che qui, oltre ai pasti, trovano bagni, docce, indumenti puliti e anche cure mediche. Ogni anno per l'assistenza occorre almeno un milione e mezzo di euro, soldi che arrivano grazie a donazioni private e ovviamente indispensabile è l'apporto di decine e decine di volontari. Se uno resta senza lavoro, perde la casa, perde tutto, il tentativo è non solo dare da mangiare ma rispondere a tutte le esigenze e tentare la soluzione laddove è possibile, casa popolare, recupero di lavoro. L'Opera assiste anche 200 famiglie a domicilio e dispone di una struttura per ospitare i familiari di persone che si trovano in cliniche e ospedali. Torniamo alla politica, in questa giornata convulsa, sapete, per il rischio di crisi di governo a Roma tutti col fiato sospeso fino al voto di fiducia sia in Senato sia dalla Camera ma intanto si muove qualcosa anche a Milano, si muove nel Partito Democratico perché è nato Milano per Civati, il comitato provinciale a sostegno della candidatura di Giuseppe Civati e segretario del Partito Democratico. Ricordiamo che le primarie del PD si terranno l'8 di dicembre. Crediamo che il PD debba essere pronto a porsi come alternativa credibile quanto prima, hanno detto i sostenitori, che vedete, e quindi continueremo con le attività in vista della scelta del nuovo segretario. Vogliamo un congresso aperto e sede di confronto su temi di fondo, sul modello di partito e di società a cui aspiriamo. Un congresso partecipato che non sia fermo all'idea del candidato leader solo al comando ma che raccolga la sfida della condivisione delle scelte e dei valori distintivi di un partito di centro-sinistra. Abbiamo scelto come candidato Pippo Civati con il quale condividiamo un percorso nuovo, dicono i sostenitori che vediamo, un metodo di confronto e ascolto, un'idea di futuro e di come stare insieme. Ora il calcio, il Milan pareggia in extremis ad Amsterdam con Balotelli protagonista nel bene e nel male. Oggi tocca alla Juve con l'incrocio tra Tevez e il suo ex allenatore Mancini. Sentiamo Jacopo Casoni. Siamo alle solite, il gioco che latita, manco fosse il ricercato del secolo, la difesa che balla la rumba. Tra l'altro fuori tempo, una prima frazione di gioco passata a tentare disperatamente, con successo per fortuna, di non beccare gol. Il Milan è questo, d'altronde è complicato che le cose cambino a stretto giro, però il Milan ha due assi nella manica, Balotelli e una fortuna sfacciata. Se quest'ultima può finire in ogni momento, lui, Mario, ce l'hai e forse ti conviene tenertelo stretto. Al netto dell'ennesima serata passata a litigare con l'arbitro, gli avversari e il pubblico, irritante a voler essere teneri, l'attaccante rosso-nero ha salvato Capre e Cavoli. Il rigore non c'era, c'erano due o tre gialli per falli su di lui, rimasti puntualmente nel taschino del direttore di gara, c'era il suo giallo, altrettanto puntualmente sventolato. Ha colpito una traversa e spaventato l'Amsterdam Arena, almeno in altre due occasioni. Se si desse una calmata sarebbe meglio, ma già così è mezzo Milan. Facciamo pure tre quarti, un pareggio che conta, vale, pesa. Stasera tocca alla Juve, costretta a vincere con il Galatasaray di Mancini. Tevez ci sarà, stringerà i denti e guiderà l'assalto bianconero, anche perché di fronte c'è il Mancio, il suo passato, la voglia di farsi sentire, di farsi vedere, val bene qualche fitta alla caviglia scalcagnata. Conte ha detto che avrebbe preferito evitare l'incrocio con Mancini in questa situazione, che prepararla è dura, senza avere punti fermi, che non sa che pesci prendere e quale lenza userà l'altro. L'altro è messo peggio però, cominciare così con la Champions e a Torino non è mica il sogno di qualcuno, neppure del più masochista dei masochisti. Servono tre punti alla Juve per affrontare la doppia sfida con il Real con un tesoretto da far valere. Poi, a prescindere dal risveglio o meno delle meringhe ancelottiane, Milan e Juve con il Napoli che le ha prese per la prima volta da quando è di Benitez sullo sfondo, almeno per noi. Juve e Milan di nuovo insieme, stavolta per davvero, sullo stesso campo. Domenica sera, senza Balotelli, purtroppo o per fortuna. Ancora notizia di Cronaca, vive ancora nell'incubo il transessuale al centro di un'indagine della Polizia di Stato, dopo essere stato vessato per mesi ed essere chiuso in casa per la paura. Parliamo della cosiddetta baby gang, anche se di baby non aveva molto perché si trattava di ragazzi tra i 16-17 anni, una gang via Creta a Milano. L'uomo che è seguito dai servizi sociali è stato costretto a scappare dal condominio dove abita, dopo aver ricevuto nuove minacce di morte da parte di altri membri della banda e dei loro familiari sotto casa. Quindi alcuni sono stati arrestati, come abbiamo detto, negli scorsi giorni, ma ce ne sono altri che continuano a minacciare Roberto, che ora si fa chiamare Giussi, ha 50 anni ed è uscito quindi alla scoperta. Prima di chiudere vi anticipo, come al solito, i programmi della nostra serata, perché a seguire il TGN andrà in onda a Nova Stadio, quando Luciano rindone i suoi ospiti per seguire appunto il turno di Champions con la Juve. Noi ci vediamo alle 23 per il TGN della notte. Dopo la pubblicità, dopo la sigla della pubblicità, per chi desidera, ci sono le previsioni del tempo. Arrivederci. Noi ci vediamo alla prossima.